abbiamo il bel ritrovato a fausto carotenuto ciao fausto ciao ciao carissimo ciao a tutti allora fausto possiamo dire ormai a ridosso di un seminario online incentrato proprio sui templari dei templari no se ne sente parlare da tanto tempo mi pare di capire che tu darai un taglio molto diverso rispetto a quella che è la concezione dei classica dei templari però tu mi hai anticipato una cosa mi hai detto guarda che ci sono tante assonanze tra quello che furono i templari tra il periodo dei templari e oggi per sì perché sai il mio lavoro su su spiritualità e politica mi ha fatto rendere conto da tempo del fatto che in fondo della storia del mondo i grandi poteri sono gli stessi soprattutto i grandi poteri spirituali immortali che vuoi che sia sono sempre gli stessi sia quelli diciamo buoni quelli che favoriscono la crescita umana sia quelli che hanno il compito di ostacolarla e ostacolandola abbiamo detto più volte in qualche modo stimolano la crescita noi cresciamo incontrando degli ostacoli e quindi questo avviene nella nostra vita individuale e avviene anche nelle vite collettive e quindi è sempre avvenuto non so i persiani svolgevano questo compito rispetto alla grecia fiorente eccetera 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 no i popoli del mare o gli titi lo svolgevano per gli egeziani in certi momenti è sempre stato così i romani lo svolgevano per tutti però vabbè quello di fare da ostacolo e quindi diciamo ci sono sempre state questi due tipi di forze poi per le forze oscure parlo di due piramidi e per le forze bianche di una però vabbè a parte questo questo è quello che è successo e poi c'è anche un altro elemento ci sono anche gli esseri che si reincarnano e quindi noi in questa epoca ne abbiamo parecchi di esseri che c'erano nel medioevo anche esseri importanti di tutte e due le bande e che in questo momento che lo sappiano o meno che se lo ricordino o meno ma spesso non se lo ricordano stanno facendo la stessa battaglia in più c'è un elemento molto forte e molto importante che riguarda i templari e che i templari facevano parte di un gruppo iniziatico antichissimo poi nati e rinati e rinati eccetera eccetera che aveva un compito era l'armata che serviva l'armata di iniziati che in vari modi serviva ad aiutare l'umanità a crescere sia come insieme che come individui quindi questo era un suo compito specifico e la cosa interessantissima che ho scoperto lavorando sui templari ormai tantissimi anni dal punto di vista sia storico ma spirituale questa è una novità pochissimi se ne sono interessati un po di rosa croce steiner un po però intanto hanno lasciato delle tracce e queste tracce si potevano seguire si potevano amplificare e viene fuori che c'è questo cioè i templari fecero un progetto che servì a cambiare la loro epoca in una maniera che nemmeno immaginiamo perché nei libri storia non c'è c'è stata una d'amnazio memoria è fatta dai loro nemici che è l'impero attuale che ci domina per cui noi non sappiamo quanto è stato importante il lascito templare in un progetto di emancipazione degli esseri umani che cominciò allora per esempio diate luogo al rinascimento dopo poco dopo pochi secoli dopo due secoli secoli e dopo dopo di che alcuni lavori che loro fecero sono lavori che stanno fiorendo adesso predisposti nel tredicesimo secolo nel dodicesimo secolo quindi era era gente con una guida spirituale elevatissima e capace di progettualità che superavano in secoli quindi in questo momento le forze a loro contrarie sono le stesse forze che ci troviamo intorno che ci fanno le angherie di questi giorni che vogliono fare il mondialismo che vogliono fare tutta questa robaccia ma sono esattamente le stesse quindi è una storia che si ripete possiamo dire così no io direi che è una storia che continua continua ma che sopravvive oggi tutto cioè l'idea loro avevano un'idea fondamentale che passarono anche a dante perché dante era un era un templare della corrente templare che si occupava di arte quelli che si chiamavano i fedeli d'amore e questo motto di cui era una corrente in fondo solo gli iniziati era che loro dovevano aiutare ogni essere umano dal loro tempo in avanti fino alla nostra epoca e oltre a diventare dicevano così si papa e re di te stesso immagina dire una cosa del genere del medioevo però loro lavoravano all'emancipazione dell'individuo che è la cosa che è più diciamo in ballo in questo momento fin da allora cioè non ci sarebbe stato l'uomo leonardiano al centro con le mani il cerchio il quadrato se leonardo non avesse attinto a questa corrente l'uomo al centro che significa al centro significa fare un po alla volta in modo che gli esseri umani non dipendessero più da un potere esterno religioso finto religioso imperiale che ti posso finanziario esterno eccetera eccetera ma ognuno avesse in sé il metro del bene e del male e fosse libero di esprimersi nella vita facendo in modo che il principio d'autorità non fosse più esterno alle persone ma interiore io ho detto più volte anche nella tua trasmissione che quello che in ballo della nostra epoca nella maniera più forte di tutta la storia è il passaggio del principio d'autorità dal fuori al dentro e siccome questo è in ballo indovina le forze dell'ostacolo che fanno come già facevano allora vogliono abbattere tutti quelli che vogliono ragionare con loro test e se non basta un papato religioso ne fanno uno scientifico e se le nazioni sono troppo separate vanno i popoli un po per conto loro loro vogliono unificare tutto vogliono verticalizzare il potere in modo che tu non voti per un ministro europeo non voti per uno dell'oms non sai niente grande verticalizzazione per rispondere a questa grande esigenza che ha sempre più gente nella nostra epoca di dire no decido io a me va bene o non va bene siccome più gente fa così loro stanno cercando di condensare un potere molto forte distante da noi che sia intoccabile e se noi un po' alla volta ci svegliamo ogni tanto ci fanno andate emergenze ci fanno le guerre ci fanno le pandemie per fare in modo di vedere quelli più svegli sotto il tacco ma quelli più svegli sotto il tacco ci possono stare un po fisicamente ma sono liberi interiormente dopo un po risbucano fuori e sono sempre più pericolosi per il potere e da allora come andò a finire quella storia e questo è molto interessante questa storia perché e questa è la novità che mi spinge da anni a fare un ogni tanto un seminario in presenza su questa cosa questo per la prima volta online io lo considero un vero e proprio evento perché queste cose si possono diffondere a tante più persone che cosa successe che nella storia ufficiale ai primi del 300 del 1300 i templari vengono completamente distrutti i capi vengono mandati a rogo vengono perseguitati il papa scioglie l'ordine quindi la storia è una storia andata male questa è la storiografia ufficiale non è rimasto nulla allora in base alla storia ufficiale non hanno fatto granché hanno diciamo sono stati una delle anime delle crociate però poi le crociate sono finite male un po perché gli islamici il saladino si sono ripresi quei territori e quindi sono stati un fallimento pure le crociate quindi diciamo la visione storica è così insomma sì poi la gente non si sa perché è affascinata dai cavalieri templari perché non si sa in effetti perché però la gente è affascinata e invece dovrebbe dire che erano quattro disgraziati che non hanno concluso nulla l'hanno pure bruciati allora invece la storia vera è tutt'altra e la storia vera si ricava in due modi leggendo bene le fonti ricavando le fonti per esempio durante il semiario leggo un pezzo molto bello scritto dal boccaccio il boccaccio di una bocca successiva ma suo padre era lì a parigi perché era un emissario bancario che girava da firenze era a parigi e assisteva a uno dei grandi rocchi di templari e quindi boccaccio ne parla come sono i nostri dice questi sono i nostri perché la grande corrente di rilasci mentali eccetera eccetera erano venivano da dai fedeli d'amore in linea diretta venivano dai templari così come i templari venivano dai cavalieri del graal quei cavalieri del graal venivano dai cavalieri di rartù i cavalieri di rartù in parte erano stati scevoli del cristo e prima erano stati pitagorei e i primi erano stati costruttori di piramidi istruiti da iside e da tot quindi è una corrente consapevole nei gradi iniziatici di essere sempre gli stessi che davano istruzioni al mondo perché gli esseri umani a un certo punto fossero capaci di istruirsi da soli quindi dal punto di vista storico materialista una storia materialista non serve a nulla e a noi quella ci danno è un insuccesso dal punto di vista questo racconto con grandi dettagli in questo seminario di 10 11 ore quello che è successo è invece che è stato un enorme successo anche perché la morte dal punto di vista spirituale non esiste si muore si fa un po di lavoro dall'altra parte si torna a continuare il lavoro quindi questo lavoro è continuato e deve continuare assolutamente mi interessava fausto magari smontare dei luoghi comuni no perché comunque il templare viene sempre associato comunque a un qualcosa di guerra fondaia no comunque di guerra santa ecco come mai c'è questa visione di questo tipo perché la storia la fanno quelli che vincono nel mondo della materia no e quindi che vuoi che sia no guarda come funzionano i giornali adesso che sono tanti e quindi è difficile capire che dipendono tutti dagli stessi poteri pensa come era allora che c'erano tre quattro scrivani in europa due dipendevano dal papa e due dall'imperatore quindi non è che noi chissà che abbiamo saputo io mi diverte molto anche se è drammatico pensare a quello che abbiamo studiato alle elementari quando ci dissero augusto imperatore quando diventa augusto chiama gli storici diciamo mi rifate la storia che io devo esaltare l'agenza julia della quale io vengo e quindi a noi che ci arriva noi che abbiamo studiato gli elementari la storia del fatta dall'agenza julia è come se adesso studiamo la storia di questi questi quest'epoca attraverso i giornali mediaset un pochino si salva pensa tu mediaset si salva attraverso sky attraverso i telegiornali ufficiali no questo è quello che è successo e quindi e quindi diciamo che il il fulcro di questo seminario anche delle cose che vi sto dicendo adesso derivato due fonti quindi la ricerca di fonti anche scritte che si trovano ma solo in parte e poi una ricerca come la faceva steiner questa è una delle cose che faccio io del anni cioè si va a vedere si chiama ricerca scientifico spirituale ci si immerge in una certa epoca e si vanno a scoprire cose anche assistere a delle cose questo si può fare ed è un lavoro scientifico non è un lavoro immaginario si fa in determinate condizioni quindi per tornare alla tua domanda aspetta qual era la tua domanda perché se è stata dipinta perché allora bisogna risalire a quello che è successo in quel momento allora questo gruppo di iniziati aveva un compito uno dei compiti che aveva era fare fuori il potere papale romano quindi loro si erano infiltrati nella chiesa in tutti i modi alcuni dei papi erano stati del loro gruppo il loro gruppo un gruppo più ampio dei templari è quello che si chiamava chiesa giovannea cioè chiesa che fa riferimento al vangelo di giovanni un certo tipo di chiesa alla quale si sovrappose l'impero romano per impossessarsi della religione quindi queste due chiese una che si chiamava ecclesia giovannea o spiritualis aveva sempre vicino per secoli questa ecclesia di potere che si chiamava ecclesia carnalis la chiamava gioachino da frore o corrotta quindi loro lo sapevano tutte e due le correnti lo sapevano adesso quella spiritualis non c'è più ma questa è un'altra storia ci sono due correnti di quella carnalis che si combattono però allora c'era quindi c'era ogni tanto capitava anche un papa che facilitava non so l'ascesa di questo gruppo iniziatico di origine gnostico manichea e se non c'erano i papi li proteggevano avrebbero bruciati prima che addirittura ne fa crescere la potenza in certi momenti e ne fa diventare potentissimo perché perché in fondo il progetto era quello di abbattere roma c'era di abbattere il posto dell'anti amor roma è la potenza anti amor infatti al contrario roma no e e stabilire un cristianesimo veramente cristico dell'amor ma questo con l'impero romano dentro la chiesa a posizioni di potere molto forti non si poteva fare quindi loro decisero bisogna fondare una nuova capitale del cristianesimo e che cosa meglio di gerusalemme e quindi loro decidono di fare insieme a un grande gruppo di nobili in quel momento la parte di punta erano nobili francesi delle regioni dello champagne del centro nord europa eccetera e che cosa fecero o cominciarono a organizzare questa spedizione ma la spedizione aveva il compito di arrivare pacificamente in terra santa e fare di gerusalemme una città aperta e libera aperta a tutte le religioni perché ovviamente essendo di un alto livello iniziatico i poteri centrali gruppi centrali più elevati gerarchicamente dei templari erano contemporaneamente in contatto con i gruppi iniziali ebraici quelli che potremmo adesso definire cabbalistici e con i gruppi spirituali islamici i sufi erano alleati e quindi c'era già un piano di arrivare pacificamente a gerusalemme e costruire insieme questa meravigliosa città libera dello spirito che sarebbe stata protetta tutta questa alleanza anche se sapeva che avrebbe dovuto combattere contro poteri oscuri ebraici poteri oscuri islamici e poteri oscuri cristiani enormi quindi questo era l'intento che cosa successe che non appena i poteri oscuri si resero conto di questa cosa mentre la prima crociata stava già partendo con una sorta di processione stava attraversando le varie zone a piedi i paesi slavi eccetera 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 già quando stiamo arrivando intorno a bisanzio all'attuale istanbul e poi attraversando lo stretto l'altra corrente ha già riempito di nobili neri iperarmati e di pezzi di galera presi da tutta Europa hanno svuotato le galere e li mandano a fare un massacro e quindi non appena si trovano vicino a istanbul non appena superano il confine turco non appena vanno in anatolia no la prima città questa torma di disgraziati assietati di sangue con la promessa del bottino eccetera eccetera assaltano una città e ammazzano tutti gli abitanti e la città era tutta cristiana quindi era proprio la voglia di strategia dell'attenzione chiamiamola così no e quindi quando si arriva a gerusalemme dura nel senso che vengono affrontati combattendo dagli islamici dalla parte oscura che prevale sui sufi e dall'altra parte sono quelli disposti a combattere come si fanno le guerre aperte adesso si prendono due fronti tutti entrambi i dipendenti dello stesso potere oscuro si fa un po d'agitazione e poi si scoppia la guerra così si fanno le guerre e quindi venne fuori questa cosa nonostante questo all'inizio goffredo di buione e i primi e i primi che conquistano gerusalemme cercarono di mantenere anche se ormai c'erano stati dei bagni di sangue e quindi diciamo che nasce già con questa doppia guida il periodo delle crociate e poi un affastellamento di nobbi da tutte le parti che volevano aggiudicarsi i fanibili nobbi europei i feudi le cose della terra santa diventa un grande disastro e quindi anche giusto a un certo punto arrivi il saladino che faceva parte della corrente nera e li fa fuori tutti quanti e li manda via e quindi però noi abbiamo quest'idea che questi erano una cavalleria sanguinaria e no come diceva Bernardo il fondatore della loro regola Bernardo di Clairvaux erano una cavalleria dello spirito tanto è vero che in qualche modo Federico II dopo qualche tempo viene incaricato cioè viene spinto dal papa a fare una crociata e lui non vuole fare una crociata perché non vuole sangue perché non vuole niente perché lui fa parte non è templare ma fa parte della stessa corrente della chiesa giovannee quindi e lui ancora sa che il loro progetto era quello di fare una Roma che non si chiamasse più Roma ma che fosse a Gerusalemme che fosse una chiesa vera dello spirito e vera dell'amore alla fine sotto minaccia di scomunica pressioni pressioni perché non faceva una crociata lui la crociata la fa si mette d'accordo con il sultano egiziano che in quel momento controlla Gerusalemme che era della corrente bianca del dell'islam in quel momento che gli dà senza combattere Gerusalemme e lui dice in cambio questa diventa una città aperta pacifica e si realizza il sogno dei templari e quindi io adesso come imperatore cercherò di difendere questa cosa che cosa succede subito dopo che il papa lo scomunica perché non aveva combattuto ecco questi sono quelli che poi hanno scritto la storia di Federico II dei templari la storia va completamente rivista ed è quello che faccio in questo seminario raccontando un sacco di cose che non sono nemmeno in nessun libro citavi prima Dante qual è il messaggio templare della Divina Commedia? Allora il primo messaggio è l'indipendenza dell'individuo il senso di libertà che è la storia di Dante e il cielo per fare in modo che lui lo porti avanti viene a far passare di tutti i colori pure a lui e il suo nemico è Boniface VIII infatti lo mette in un adeguato posto dell'inferno cioè perché nemico della libertà nemico delle libertà questi assoggettavano Firenze assoggettavano il mondo assoggettavano combattendo qualsiasi cosa quindi la libertà quindi lui aveva il motto templare che si va per te stesso in tutta la Divina Commedia c'è questa c'è questo tema della libertà interiore della decisione interiore del proprio rapporto diretto col mondo spirituale non ci sono confessionali per salire dall'inferno al paradiso per andare dal purgatorio al paradiso poi c'è un altro aspetto Dante in effetti nel linguaggio nascosto ma evidente per chi lo conosce non sta parlando dell'aldilà nella Divina Commedia ma sta parlando del percorso iniziatico che tutte le persone dovrebbero compiere e quindi sta in vita quindi sta all'inferno chi ancora non ha compreso che sta facendo degli errori gravi non lo ha ancora compreso e quindi continua a farlo sta in purgatorio chi ha compreso quali errori sta facendo ma ogni tanto ci ricade ok e quindi deve ancora crescere ancora rafforzare le sue forze come dicevano i templari attraverso l'amore attraverso l'uso dell'azione positiva operativa e poi va in paradiso chi ormai ha superato questo ostacolo di ricaderci ogni tanto questo questo è quello che lui descrive anche Steiner diceva che dà in una breve frase che Dante mette l'immaginario templare nella Divina Commedia anzi la fa apposta per impiantare le forme pensiero dell'immaginario templare che poi era l'immaginario della grande corrente giovanea per impiantarlo dell'umanità perché fruttasse prima o poi un po' alla volta come elementi ideali ma il tema della libertà e dell'amore sono chiaramente al centro della vita di Dante e del suo messaggio e sono al centro dell'elemento templare tutt'ora il graal c'entra qualcosa perché è la stessa corrente allora la corrente qual è? dunque fino a che c'erano i cavalieri precedenti ci sono gruppi di cavalieri c'è un gruppo di cavalieri che sono i cavalieri arturiani quelli della tavola rotonda ma questi cavalieri sono un fortissimo gruppo iniziatico che aveva sede in cornovaglia nel castello di Vintagel parlo molto del castello di Vintagel di quello che ci è successo della storia eccetera questi che cosa facevano? questi in fondo era una forza operativa anche sul campo anche culturale politica eccetera eccetera che trasferiva in tutta l'Europa nel vecino del Mediterraneo diciamo le direttive del mondo spirituale e come le trasferiva? le trasferiva in un rapporto anche col mondo astrale quindi ognuno dei cavalieri della tavola rotonda era una direzione zodiacale di ispirazioni che venivano dal cosmo uno per segno zodiacale quindi erano proprio ispirazioni intuizioni che arrivavano indicazioni agli esseri umani e poi artù era il sole rappresentava il sole e quindi riceveva dal logos dall'elemento cristico le istruzioni su come trasferire l'amore infatti operativi per far crescere l'umanità diciamo che erano delle guide Ginevra un po' alterava la situazione essendo la luna però questa è un'altra storia comunque diciamo loro erano portatori in terra della saggezza cosmica che veniva trasferita proprio in operazioni in istruzioni in cultura in economia di un certo tipo e poi comincia invece l'idea che l'uomo dovrà sviluppare l'idea di messa dal cielo che gli esseri umani si devono sviluppare con il proprio cuore con il criterio che il proprio cuore deve dire questo è bene e questo non è bene sì lo possono dire anche le stelle il cielo gli angeli la sofia la coscienza universale ma l'essere umano non diventa mai dio come diceva il vangelo di giovane divinità se non è lui a decidere qual è il bene e qual è il male e ad essere la misura delle sue azioni e allora bisognava un po' alla volta trasferire il criterio all'interno dell'essere umano e si comincia da un essere umano archetipico che è Parsifal e quindi all'interno che emerge in fondo da e in contatto col circuito arturiano circuito arturiano comincia su atlantide e dura fino al regno dell'isabetta prima pensate quanto dura ma nel frattempo intorno al 7 800 800 900 comincia l'epopena del graal e che è il graal il graal è la coppa nella quale è stato versato il sangue del cristo cioè l'amore versato per gli altri questo significa e quindi chi va alla ricerca del graal va alla ricerca in fondo come Parsifal della propria capacità di mettersi a disposizione del mondo per aiutarlo questo è in fondo il graal no il graal la parte coppa dura è il cranio no è il cranio ma in questo graal bisogna versare il liquido dell'amore il proprio sangue che significa il proprio sforzo noi conoscete mette il sangue no i templari dicevano il mio sangue non è mio ma è del cristo che in termini pratici significava tutto il mio sforzo è dedicato ad amare perché il cristo significa amare l'amore quindi questo è e quindi lì un essere umano comincia a fare questa cosa e non a caso tutti i poemi del graal vengono fatti nel dodicesimo secolo tredicesimo secolo da nobili pagati da nobili e scritti da scrivani del circuito templare come a dire facciamo una grande operazione noi templari riprendiamo quello che abbiamo cominciato a fare con i cavalieri del graal qualche secolo fa e lo attualizziamo lo rendiamo la cosa più famosa culturalmente di quel periodo e quindi fanno un grande sforzo anche culturale e la gente si innamora di queste storie e queste sono il contorno poi dell'epopea delle crociate dell'epopea soprattutto europea dei templari quindi questa è la storia sulla storia di parsifal che è una storia bellissima anche lì c'è tutta l'anima dei templari io tra un paio di mesi metterò online un seminario importante che ho fatto qualche tempo fa sulle storie del graal proprio interpretando i passi e sono dei poemi iniziatici così come l'odissea così come come il vangelo così come la divina commedia poemi e scritti nei quali c'è una lettura profonda che nessuno ci dà mai e per noi diciamo che studiamo con più serietà possibile la scienza spirituale la lettura è talmente evidente che vale la pena di raccontarla a tutti finalmente una domanda curiosità che penso forse molti si stanno facendo oggi chi si richiama alla tradizione templare e vediamo a volte anche sui social no e viene fotografato vestito in un certo modo no con la croce rossa e dice sono un templare che ne pensi è come se un templare al suo tempo avesse detto sono un sacerdote di iside no però qui c'è un aspetto più drammatico c'è l'aspetto dell'impossessarsi delle forme pensiero e dei ruoli io mi sono imbattuto in tante di queste nuove confraternite templari ce ne sono di massoniche di vari livelli di vari gradi e ce ne sono anche di cattoliche allora ne avessi trovata una giusta nel senso che al di là mettiamoci quattro mantelli e quattro cose facciamo quattro cerimonie così no in effetti mi sono reso conto che non sapevano niente era una sorta di loggette neologgette massoniche queste le più diffuse neologgette massoniche che radunano persone e creano clientelismo che c'erano circuiti di clientele di amicizia di rapporti che poi vengono usati in tutti i modi in cui li usa anche la massoneria ormai non parlo della massoneria dei primi tempi che era templare e quindi diciamo io se vedo questi che fanno le sfilare questi templari un po' mi viene da sorridere un po' mi fanno pena un po' mi preoccupo perché? perché uno dei segreti della storia attuale è che al vertice delle massonerie più oscure di quelle sanguinarie di quelle che fanno i riti satanici ci sono proprio dei gruppi che si rifiniscono templari questo è veramente drammatico questo perché è proprio l'usurpazione del nome è proprio l'usurpazione del nome, l'usurpazione della forma pensiera e quindi questo è un vero disastro e queste logge templari stanno alla testa in questo momento di tutte le massime istituzioni mondiali e questa è un'altra delle cose che non si sanno molto così come un'altra questione che mi colpisce è che i templari sono stati una potenza enorme del medioevo non c'era una potenza finanziaria militare ed economica superiore ai templari non c'era, ma non era aggressiva in quanto loro erano dedicati al bene quindi facevano altro con i soldi che avevano e col potere che avevano proprio per rubare quella potenza Filippo il Bello cominciò l'aggressione contro di loro per rubare il denaro e altro e per non avere più a che fare anche la chiesa di Roma con questa potenza incredibile però qualche secolo dopo qualcuno li ha imitati ma al nero e sono sorti i gesuiti loro erano al servizio del Cristo e i gesuiti erano una compagnia, compagnia è un termine militare la compagnia del Gesù hanno rubato l'archetipo del Gesù si sono infilati a forza nella chiesa cattolica che proprio non li voleva nel cristianesimo ed erano un gruppo militare ne hanno fatte di cotte e di crude si sono impostati della scienza, del potere, della finanza eccetera eccetera diciamo che sono in questo momento la vera forza che rappresenta al nero il negativo dei templari di una volta quindi questo è molto forte anche perché loro in questo momento sono dominanti e quindi abbiamo una forza antitemplare, controtemplare organizzata nello stesso modo ma al contrario altri esempi sono stati quello dell'Opus Dei l'Opus Dei addirittura cantavano l'inno templare una volta a settimana si ritenevano i nuovi templari ma erano al contrario però una barzelletta anche se erano potenti rispetto al grande enorme potere dei gesuiti perché è un potere spirituale perché chi vuole avere potere lo sa nel mondo che il potere deve essere spirituale per diventare politica finanziaria o è bianco o è nero quindi questo è quello che sta avvenendo adesso e allora oggi chi sono, dove sono e cosa fanno i veri templari allora l'idea e questo lo facevano anche loro tu immagina che già allora era una struttura abbastanza verticale ma molto libera c'erano i gran maestri delle varie nazioni templari e poi c'erano 9.000 commende come le chiamavano loro erano case erano soprattutto fattorie fortificate perché i soldi venivano dalla terra in quel momento e quindi 9.000 in tutta Europa controllavano tutte le vie di comunicazione erano dappertutto avevano delle estensioni di terreno notevolissime facevano scambi cioè hanno creato una nuova economia di cui io parlo hanno distrutto il feudalesimo quindi loro tendevano a creare una cultura orizzontale quindi erano anche abbastanza indipendenti l'uno dall'altro quindi questo è quello che fanno adesso quindi se tu vai a cercare un templare in una struttura organizzata in questo momento non lo trovi li trovi sparsi dappertutto a diffondere i messaggi e quindi non sono più un gruppo strutturato si sono immersi nella cultura del risveglio orizzontale e partecipano in tutti i settori agricoltura, finanze, economia, politica arte in tutti i modi cominciano a immettere a diffondere forme pensiero quindi nel risveglio di coscienza che è cominciato negli anni sessanta c'è stato un grande impegno di tanti templari redivivi dice diremmo che delle volte manco si ricordano di essere stati templari così vivono ancora più direttamente quell'impulso che gli nasce dal cuore perché l'hanno coltivato in tante vite precedenti quindi io direi di cercare i templari dove non ci sono i templari apparenti è una qualità interiore il templarismo che diventa gente che si va da fare della pratica con una qualità interiore superiore si è parlato di questa lotta tra poteri umani e anti umani che va avanti nel corso della storia diciamo che il rapporto tra virgolette di forza è sempre uguale cioè c'è sempre bisogno in modo speculare l'uno dell'altro per ovviamente in ogni epoca storica c'è un obiettivo in questo caso questo risveglio crescente di cui parli ma questa presenza dell'anti umano è forte sempre allo stesso modo ci sono dei periodi in cui come dire si addormenta un po' in altri casi si risveglia diciamo uno dei simboli io parlo molto poi delle simbologie templari profonde perché quello che c'è sui libri è veramente indecente sulle simbologie templari ma uno dei punti di riferimento fondamentali dei templari era la loro guida spirituale che quando erano egizi era Thoth quando erano greci era Hermes e adesso era Michele nel cristianesimo che ha la stessa spiritualità come lo rappresentavano loro Michele? rappresentavano questo Michele questo angelone vincente senza dubbi che stava lì e teneva a bada sotto il tacco il demonio che alle volte era un serpente a volte un essere umano con le alucce da pipistrello eccetera eccetera il demonio quindi quella è la foto quella è la storia sempre è sempre così allora ogni tanto Michele alza la zampetta tira un po' sulla spada e dice ragazzi datevi da fare date qualche morso qua e là e io controllo il livello dei morsi agli esseri umani perché sennò questi dormono e non fanno niente e non crescono soprattutto non si rendono conto del lato oscuro che hanno dentro di loro quindi non c'è mai stata parità specularità tra bene e male c'è sempre stato ed è ovvio perché il mondo non è stato fatto dal bene e dal male contemporaneamente è stato fatto da qualcuno che ha fatto un cosmo meraviglioso una natura meravigliosa e poi per quanto riguardava una certa fase della crescita umana ha detto immettiamo un po' di male degli esseri del male delle piramidi del male e gli diamo dei limiti di intervento gli facciamo fare anche delle cose orribili ma purché servano purché poi generino di vita in vita sviluppo degli esseri umani e adesso sta succedendo la stessa cosa non è che il male aumentato in certi momenti dimostra la propria evidenza ma noi in maniera molto evidente come adesso per fortuna la gente più sveglia vede il male dappertutto ma c'era pure prima ma per fortuna adesso lo vede dappertutto e quindi nel futuro si fa imbrogliare di meno si farà imbrogliare di meno dai media dai politici dalle classi mediche ufficiali eccetera 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 mentre prima non era così chiaro per tutti questa cosa quindi un grande risvelamento consentito da forze spirituali che sono elevatissime io ogni tanto in questo periodo dico una cosa ho fatto questo seminario che è online sugli angeli di cui abbiamo anche parlato in cui da un certo punto parlo di di un certo momento in cui per far crescere gli esseri umani a qualche angelo di medio livello è stato detto di fare satana o lucifero e questo durerà fino a che noi ne abbiamo bisogno non ci facciamo abbacinare dal male perché se ci facciamo abbacinare loro questo vorrebbero io ti terrorizzo col male ti impaurisco ti mando in ansia e tu non ti muovi più e non fai quel bene che potresti fare intorno a te che è il tuo compito siamo nel finale non posso non chiederti cosa ne pensi di quello che sta accadendo con la presidenza della repubblica questo teatrino che sta andando in scena che cosa stanno spingendo beh mi interessa non so se ti ricordi io qualche volta ho parlato che in effetti tutta questa lotta che questo teatrino finto che vediamo con questi quattro burattini che fanno finta di comandare qualche cosa in effetti c'è uno scontro tra due correnti del Vaticano ma non tra quella progressista e quella conservatrice come è stato cioè non è che nello scontro c'è Vicano e Company quelli sono fuori ma c'è uno scontro tra quelli che hanno vinto distruggere cioè mettendo all'angolo i conservatori i ratzingeriani i voetiliani l'opus Dei eccetera eccetera e che sono riusciti con un'alleanza di interessi a mettere Bergoglio in cima però Bergoglio era in cima e altri cardinali controllavano la curia che sono della corrente curiale sono due correnti per farla semplice Conte e Company sono sottoprodotti della corrente curiale Draghi, Mattarella e altri sono chiaramente per origine per tutto della corrente gesuita da un po' di tempo si è rotto l'equilibrio tra queste due correnti e si è visto il passaggio da Conte a Draghi mal digerito dai curiali adesso io sono molto divertito in qualche modo perché perché tanto non cambia chi viene eletto servono lo stesso potere mondialista cioè non è che cambia sono figli di Satana nello stesso modo per dirla in termini spirituali no? e quindi sono tutti antiumani così a livello sportivo e nessuna delle due della nostra squadra del cuore voglio vedere se si mettono d'accordo o se vince qualcuno e sarà interessante magari che facciamo due chiacchiere dopo le elezioni così ne parliamo un po' di chi è che ha vinto o di che tipo di compromesso abbiamo cioè immagini la corrente gesuita adesso c'aveva presidenza della repubblica papato e presidenza del consiglio gli altri forse l'hanno vissuta come un po' troppo a meno che quel po' troppo non non se ne possa fare a meno ormai sono talmente dominanti che non se ne può fare a meno ma vedremo faremo allora sicuramente questa chiacchierata tra l'altro anche questo nome che era emerso di questo Riccardi della comunità di Sant'Egidio se non sbaglio anche lui viene da quella ambiente gesuita beh è un po' strano perché è un bel turacciolone questo Riccardi diciamo che lui era vicinissimo a Voitile vicinissimo e poi ha ben detto sedicesimo no? e quindi era sempre commosso qui e lì diciamo che secondo me è un curiale però potrebbe anche essere un curiale di compromesso mentre altri nomi come la Bellonia cioè essono chiaramente dell'altra banda ma è meglio che ne parliamo dopo ne parleremo ne parleremo dopo io ricordo per chi è interessato ovviamente a questo seminario sui Templari di andare direttamente su coscienze in rete.net dove appunto trovate tutte le informazioni per diciamo collegarvi a questo seminario online di Fausto Crattenuto il prossimo weekend giusto? no il 4-6 scusami allora il primo weekend di febbraio primo weekend di febbraio perfetto allora avete tutto il tempo diciamo per per pianificarlo Fausto grazie davvero e allora presto grazie a te moltissimo e un saluto a tutti questo seminario è un'occasione importante importante per chi è attratto dalla drammatica e contemporaneamente fantastica epopea templare per chi la vuole conoscere e comprendere meglio ma ha difficoltà a farlo perché le fonti che ne parlano i libri che ne scrivono derivano le loro conoscenze proprio da quei poteri antiumani che furono nemici dei Templari e che volero distruggerli in questo seminario vi presenterò invece una serie di vere e proprie rivelazioni sulla storia dei Templari una storia dei Templari mai scritta parleremo a fondo del senso di un'avventura spirituale e terrena ben più bella più ampia e più importante di quanto fino ad ora ci abbiano mai raccontato sarà un seminario ricco di immagini di video e di racconti mai ascoltati e mai scritti tratteremo molti temi e ne cito solamente alcuni parleremo di come i Templari siano entrati con un ruolo importantissimo e positivo nel gioco dei grandi poteri quelli favorevoli e quelli contrari alla crescita degli esseri umani e parleremo della storia sconosciuta di questo confronto dalle sue origini fino ad oggi una storia con una incredibile continuità fino ai fatti e dagli sviluppi dei nostri giorni e approfondiremo le vere origini dei Templari e la loro missione sulla terra per conto del cielo conosceremo le loro misteriose simbologie profonde i loro riti riservati i loro tre grandi segreti vedremo come i Templari le loro capacità tecniche e il loro culto del divino femminile della Sofia siano stati alla base del mistero delle grandi e meravigliose cattedrali medievali vedremo quale è questo mistero e come funzionano queste enormi macchine spirituali parleremo finalmente del ruolo cruciale dei Templari come guardiani della geografia sacra della struttura sottile della terra e di quella dell'Italia in particolare e descriveremo il ruolo fondamentale dei Templari nella misteriosa e drammatica vicenda del Papa Celestino V capiremo finalmente chi e perché ha voluto annientare fisicamente i Templari ma non ha potuto distruggere la potenza dinamica della loro opera e vedremo quale imponente rivoluzione sociale culturale ed economica è stata il principale duraturo successo del lungimirante progetto di questi ispirati, coraggiosi e saggi cavalieri un progetto che riemerge con forza proprio nella nostra epoca a sostenere e indicare la nostra vera e positiva missione sulla Terra vi aspetto con entusiasmo alla prossima per la prossima la prossima Grazie a tutti.